Ok, siamo qui perché devo fare un po' di chiamate in Atlantide, farò una chiamata da 10, visto che posso permettermelo, ma il mio scopo non è avere un 5 stelle di quelli impossibili, di 5 stelle Atlantide ne ho solo due, ma sono due molto 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 utili, che sono Ariel e Mitsuko. Ecco, voglio un altro Wilbur, perché mi serve e purtroppo ne ho ricevuti tanti nel corso dei mesi, ma li ho sempre dati in pasto perché ne avevo già uno, e invece adesso mi servirebbe alquanto, soprattutto per la Torre Ninja, perché è veramente utile, quindi proviamo e speriamo che arrivi, se non arriva pazienza, ce la faccio lo stesso. Quindi, oh, ho una chiamata gratuita, proviamo già con questa, il tempo è giallo, media, utile. Pronto, e andiamo, speriamo bene, devo andare da Dava prima, ma vediamo, andiamo da Dava. Così, facciamo che se viene qualche cosa, è merito di Dava. Sta cagando di credenza, tale per cui, se uno prima visualizza Dava, dove cavolo è? Guarda, eccola qua. Pare che arrivi qualcosa di bello, ma io voglio Wilbur. Vediamo qua. Oh, meccacidentaccio. Era rosso. XU. Questi quattro stelle. Che Lile, un altro quattro stelle inutile. Vedete, oh, tutti quattro stelle? Ma non quello che volevo io. No, uffa. Sto già perdendo le speranze. Proteo. Ce l'ho già un altro. Anche, niente. Un sacco di quattro stelle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette su dieci, quattro stelle. Le ho già tutti e onestamente non mi serviranno, ma pazienza. Facciamo la chiamata. Secondo me viene una lama nascosta. Una bussola, un'altra cosa che non mi serve. Peccato.